Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Non pensavo di essere così felice oggi di parlare con voi del film Sonic, film tratto dall'omonimo videogioco della Siga e con protagonista il grandissimo Jim Carrey. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche agli altri, andateli a vedere nel canale, di condividere il video con tutte le persone che amano i ricci e di commentare qui sotto con quello che viene un parso di questo film. Cominciamo con la trama. La trama è abbastanza semplice, è il classico tema dell'alieno che arriva sulla terra, diventa amico del protagonista terrestre, umano, ed è cacciato dal governo statunitense, che in questo caso fa la parte del cattivo. Sostanzialmente il tema ricalca ET, l'extraterrestre. Ma come sempre non è importante che la trama sia complicata se la storia si regge bene sui personaggi, e qui la storia si regge bene sui personaggi. È un origin story, quindi fondamentalmente ci introducono a questo mondo di Sonic. Il tema trattato in questo film, seppur in modo appena accennato, è quello del sentirsi solo, del sentirsi separato dal mondo, perché è diverso come appunto Sonic che viene da un altro pianeta, dell'importanza di avere almeno un buon amico a coprirti le spalle, e dell'amicizia che va oltre la specie, o la razza aliene in questo caso, quindi dell'amicizia interspecie. Tema molto moderno, molto innovativo, dell'amicizia appunto tra un umano e un animale, ma anche tra una razza e un'altra. Non a caso anche i due protagonisti sono una coppia interraziale. È un tema che viene messo sottile, ma è fondamentale che il pubblico, soprattutto il pubblico di bambini a cui è dedicato questo film, apprenda questo tema molto importante. In questo caso non è il governo in prima linea a occuparsi di questa faccenda dell'alieno, ma ingaggia uno dei suoi soldati, uno dei suoi scienziati migliori, seppur è anche una persona molto squilibrata ed egocentrica. Che succede? No, tranquilli, non è Morgan, ma è il dottor Ivo Robotnik, interpretato da un rifiorito Jim Carrey che ci dà una interpretazione cartonistica e iconica, almeno penso che diventerà una delle sue interpretazioni più iconiche, da mettere sulla mensolina insieme a Esventura, The Mask, L'Enigmista, insomma le sue prime interpretazioni più colorate degli anni 90. La presenza scenica di Jim Carrey da sola regge il film, anche grazie al regista che gli regala delle inquadrature dove domina totalmente la scena. Una scena in cui ha tutti i suoi droni alle spalle, ripresa dal basso verso l'alto, è spettacolare. E ruba anche la scena ai buoni di questo film, ai protagonisti, diciamo. Il personaggio in computer grafica Sonic, che è doppiato in lingua originale da Ben Schwartz e da noi in italiano da Renato Novara, e James Marsden, che è lo sceriffo Tom Wachowski, lo pronuncio così e non come lo dicono del film, poi vi spiego perché. Che voi forse conoscerete, James Marsden, per il ruolo di ciclope nella prima trilogia degli X-Men, quella diretta da Bryan Singer, che se non avete visto vi consiglio caldamente di recuperare. Cinematograficamente o a livello di sceneggiatura ho apprezzato molto la velocità in cui scorrono gli eventi, è come se la regia seguisse la frenesia del protagonista. E anche il protagonista stesso parla in modo molto veloce e parla continuamente, facendo un sacco di citazioni. Mi ha ricordato, anche in questo caso, una specie di Deadpool, però strafatto di cocaina. Il pianeta dei funghi Sonic ha come ultima spiaggia, per scappare dalla Terra, da dove è inseguito appunto da Robotnik, di andare in un altro pianeta, che è il pianeta dei funghi. Il pianeta dei funghi è un riferimento a un livello del videogioco di Sonic, però Sonic dice una battuta all'inizio, che è io odio i funghi, e magari è una strizzatina d'occhio al suo rivale videoludico Super Mario, che invece ha un buonissimo rapporto con i funghi, come tutti sappiamo. Non un così bel rapporto, però, con gli adattamenti cinematografici. Nel film troverete un cameo di Neil McDonough, che molti conosceranno per il suo ruolo in CSI, vi metto magari qua una sua foto, altri invece lo conosceranno per il ruolo del cattivo Damien Dark in Arrow e Legends of Tomorrow. Il dottor Robotnik continua a chiamare il personaggio di Tom per cognome, Wachowski, e viene prontamente corretto dal nostro protagonista, che vuole essere invece chiamato per nome. Questa è una sottile citazione a Matrix e al rapporto che c'è tra l'agente Smith e Neo Leletto, che l'agente Smith chiama continuamente Signor Anderson. Secondo voi me lo sono sognato? E allora perché il cognome di Tom Wachowski è lo stesso cognome dei registi della trilogia di Matrix? Il personaggio stesso di Sonic fa delle citazioni a tutto ciò che tratta il tema della velocità. È un accanito lettore di Flash, ha un sacco di fumetti su Flash, guarda Speed alla televisione di nascosto e cita una battuta di Vin Diesel nella serie cinematografica Fast and Furious. Inoltre ci sono due citazioni che ho colto, ma in lingua italiana non so se sono merito dell'adattamento del doppiaggio o se già in originale sono volutamente citazioni. Mi riferisco a Sonic che quando parcheggia malissimo la macchina semidistrutta dice parcheggio perfetto, in riferimento alla battuta che faceva Jim Carrey in Ace Ventura, dovremmo capire se in lingua originale dice like a glove, come dice Ace Ventura in inglese. E inoltre il Dottor Robotnik di Jim Carrey, doppiato ormai storicamente da Roberto Pedicini, in una battuta dice, come in così modo di dire, dice per inciso. Per inciso è un intercalare che utilizzava spesso l'enigmista di Batman Forever, sempre doppiato da Roberto Pedicini. Ed è Jim Carrey stesso che trova una somiglianza tra il personaggio di Robotnik e il personaggio dell'enigmista, quantomeno nell'elaborazione complicata di piani malvagi per sconfiggere l'antagonista e del fatto che esaltino tantissimo la propria intelligenza. Il film Sonic è costato circa 90 milioni di dollari e sarebbe dovuto uscire ad ottobre del 2019. Però la Paramount, la casa produttrice, ha mandato in onda il trailer con questo design del protagonista in CGI e ha letteralmente fatto crollare il web di pareri negativi dai fan del personaggio ma in generale dalle persone che sono incappate per sbaglio in questo trailer. Questo perché a sensazione proprio questo personaggio, questo Sonic, aveva un aspetto troppo, troppo umanoide e faceva senso in alcune scene del trailer tant'è che visto questo enorme dissenso la Paramount ha scelto di dare ascolto al pubblico e di spendere ulteriori 5 milioni di dollari quindi il budget si è alzato a 95 milioni di dollari per rifare completamente il design di Sonic dandogli un aspetto più simile alla media da cui è tratto cioè dal videogioco un aspetto un po' più cartunesco ma in fondo è un alieno quindi perché deve essere così simile al nostro aspetto umano? Con questo nuovo trailer ha conquistato, diciamo, l'accoglienza dei fan. Pensate che molti ben pensanti hanno criticato questa scelta della Paramount di dare ascolto al popolo e spendere ulteriori soldi per rifare un design addirittura ricordo che al Conan O'Brien hanno fatto una scenetta in cui si prendeva in giro la comunità nerda fondamentalmente perché ci preoccupavamo di queste facezze e non di cose ben più importanti come appunto l'aspetto di un personaggio di finzione. Innanzitutto questo è ben altrismo perché il fatto che noi ci preoccupiamo di una cosa non significa che non badiamo anche alle altre ok boomer ma soprattutto l'impatto iniziale è una cosa che non puoi togliere se l'impatto iniziale è negativo e te lo comunico tu di quello che io ti ho detto fai quello che vuoi. La Paramount ha scelto di ascoltare il pubblico e questa scelta è stata premiata è stata premiata perché Sonic è il film di maggior incasso nel primo weekend di uscita della storia battendo, spodestando Detective Pikachu di cui ho fatto una videorecensione lo scorso anno. Infatti nel suo primo weekend di uscita Sonic ha già guadagnato anzi incassato 111 milioni di dollari quindi vai così Sonic. A quanto pare ascoltare la comunità nerd non è stata poi una così cattiva idea per la Paramount a differenza del film Cats che da noi uscirà il 20 febbraio dove l'orribile CGI che è stata accolta altrettanto negativamente non è stata cambiata e il film è stato un flop totale di critica e di incassi ma ne ho parlato in un video dedicato sulla notte degli Oscar che vi metto qua magari nelle schede. Il grande ritorno di Jim Carrey Ragazzi io sono felicissimo che Jim Carrey sia in questo film se non altro oltre che per la sua interpretazione anche perché come da contratto sta promuovendo la campagna pubblicitaria di Sonic sta partecipando a un sacco di talk show e mi piace davvero quello che dice mi piace sentirlo parlare mi piace sentire quanto sia felice quanto sia pacifico perché ha davvero passato un brutto periodo ultimamente e ultimamente intendo negli ultimi anni da quando ha boicottato diciamo la campagna pubblicitaria di Kickass 2 dove interpretava un ruolo anche abbastanza importante e l'ha diciamo boicottata perché in quel periodo era successa l'ennesima strage in America di un ragazzino che ha portato una pistola a scuola e Jim Carrey non se l'è più sentita di promuovere Kickass perché era troppo violento e andando incontro anche alle ire della casa cinematografica e delle case cinematografiche che lo hanno visto come una scheggia impazzita dopodiché ha avuto purtroppo un gravissimo lutto la sua ultima fidanzata subito poco dopo che si era lasciata con lui si è suicidata infatti è stato anche indagato e poi prosciolto e questo l'ha portato in un baratro credo anche abbastanza distruttivo autodistruttivo ha avuto il suo periodo barbalunga ha avuto comunque delle comparsate televisive e delle interviste dove però si vedeva che parlava in modo molto strano addirittura tanti pensavano che si fosse ammattito o che fosse o che avesse chissà quali messaggi nascosti semplicemente stava affrontando questo lutto e stava cercando di affrontarlo sia in maniera spirituale che umana e quindi facendo anche voli pindarici ragionamenti che si fanno solitamente in queste situazioni per dare un senso alla propria vita adesso Jim Carrey si sta riscoprendo si sta riscoprendo anche con la sua arte lui dipinge seguitelo su twitter perché fa dei bellissimi quadri e pare che abbia trovato finalmente la sua serenità e questo film e questa interpretazione ne è la prova mi dispiace se ho speso forse una parola di troppo per Jim Carrey ma è come penso per molti coetanei è uno dei miei attori preferiti se non il mio preferito anche se è un attore di genere che ha tentato appunto di espandersi a più generi ma non non c'è mai riuscito veramente però è stato sulla cresta dell'onda per tantissimo e di recente si era un pochino perso per motivi che ho appena detto sono felice di averlo visto di nuovo in grandissima forma se voi volete se siete amanti di Jim Carrey scrivetemi nei commenti di altri film suoi che volete che io recensisca lo faccio davvero molto molto volentieri li mettiamo tutti nella rubrica retro movies che vi faccio vedere qui nelle schede con questo è veramente tutto io con l'inchino e con l'imbuto come sempre vi saluto e arrivederci al prossimo video